Sono numerose le segnalazioni giunte sulla riapertura del concorso da 37 posti per infermiere professionale dell'azienda sanitaria locale di Matera. Nonostante il concorso sia attualmente fermo e oltre 300 candidati su 11.000 partecipanti da oltre 7 mesi aspettano di poter terminare le prove previste, l'ASMA ha riaperto la prova per altre 20 unità. E quanto sostiene il consigliere del Movimento 5 Stelle Giovanni Perrino per il quale questa nuova riapertura va a danneggiare i 300 aspiranti infermieri già preselezionati? Perché bandire un'altra selezione per altre 20 unità quando c'è da terminare quella per 37 in corso? C'è da sistemare qualcuno che è stato escluso nella prima procedura? E la domanda apposta dei 300 preselezionati è rilanciata da Perrino al governatore Pittella in un'interrogazione in consiglio. Anche i giudici amministrativi, prosegue Perrino, considerano la possibilità di bandire un nuovo concorso contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Il Consiglio di Stato infatti si è più volte soffermato sull'obbligo di una dettagliata motivazione in merito ad una procedura concorsuale ancora in atto. Risposte chiare, conclude Perrino, spettano soprattutto agli oltre 300 candidati che con gravosi sacrifici e tanta fatica hanno riposto tantissime aspettative in questa selezione. Il Consiglio di Stato infatti